Assalto in Donbass, l'offensiva è già iniziata, dicono le autorità ucraine. Convogli russi si dirigono a sud per la battaglia finale in cerca di vittoria. Intanto l'Austria cerca una mediazione con Mosca. Le elezioni presidenziali in Francia. Macron vede la riconferma seconda, Le Pen. È l'astenzionismo, il grande presente. Si deciderà tutto al ballottaggio del 24 aprile. Il vino italiano riparte da Verona. Alvia in presenza il Vin Italy. 4.000 espositori per rilanciare il Made in Italy nel mondo. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV2000. Dunque Mosca prepara l'attacco finale al Donbass. Cresce la paura che le forze russe utilizzino armi al fosforo su Mariupol e sul fronte diplomatico si cerca ancora la mediazione. Ci dice tutto Marco Burini. Dura da una quaresima questa guerra. E oggi inizia una settimana di passione al cui confronto il sangue versato potrebbe sembrare poco. L'esercito russo sta concentrando le forze e la furia nel Donbass, la regione dell'Ucraina orientale contesa da tempo. Qui la guerra è iniziata otto anni fa, subito dopo che Putin si è preso la Crimea. E non è mai finita. Ma in queste sette settimane si è incattivita. In zona circola pure Ramzan Kadirov, detto il macellaio, al quale Putin ha consegnato la Cecenia e che adopera insieme ai suoi spietati miliziani per le operazioni sporche. Ci sarà un'offensiva non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. Prima libereremo completamente Luhansk e Donetsk e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città. Ringhi a Kadirov, che era già stato segnalato a Buccia. Ma ora l'angoscia è per Mariupol. Per i britannici, l'esercito russo potrebbe usare bombe al fosforo. Sarebbe come spargere sale sulle rovine di una città straziata e devastata. Per Zelensky, le stragi di civili dimostrano che gli uomini di Putin hanno perso il contatto con la realtà. Le atrocità di Buccia e Kramatorsk, dice il leader ucraino, vengono dalla codardia e quando cresce la codardia diventa una catastrofe. Quando le persone non hanno il coraggio di ammettere i propri errori, scusarsi, adattarsi alla realtà, imparare, diventano mostri. E quando il mondo lo ignora, i mostri decidono che il mondo si debba adattare a loro, aggiunge Zelensky. Tocca al cancelliere austriaco Nehammer, che sabato era a Kiev e oggi è a Mosca, vedere fino a che punto Putin è rinchiuso in una bolla di paranoia. Comunque il patriarca Kirill resta al suo fianco. Chiede ai fedeli ortodossi di combattere nemici interni ed esterni e unirsi anche attorno al potere. Tutte altre parole da Papa Francesco. Si ripongano le armi, si inizia una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. La crisi umanitaria sono oltre 4 milioni e mezzo i profughi ucraini che hanno lasciato il loro paese dall'inizio della guerra, lo dicono i dati dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. La Polonia è il paese che ne ospita di gran lunga il maggior numero. L'Italia invece, secondo i dati del Viminale, ad oggi ne ha accolti poco meno di 90 mila. E torna l'incubo nucleare. Le forze russe hanno rubato dalla centrale di Chernobyl 133 sostanze radioattive letali. La denuncia arriva dall'Ucraina che dice non si sa dove siano. Caterina Dall'Olio. Lo spettro di Chernobyl si allarga sempre di più in questa settima settimana di guerra. L'ultima notizia che arriva dal territorio più letale d'Europa è che i soldati russi avrebbero rubato 133 sostanze radioattive letali paragonabili a 700 chili di rifiuti radioattivi con radiazioni beta e gamma. Lo denuncia sui social l'Agenzia Statale per la gestione della zona di esclusione aggiungendo anche che una piccola parte di queste sostanze può essere mortale se gestita in modo non professionale e che l'attuale ubicazione delle sostanze rubate è sconosciuta. C'è di peggio. Non è possibile neppure determinare il grado di conservazione e di sicurezza delle sorgenti di calibrazione e delle soluzioni radioattive campioni e lo stato del danneggiamento sarà determinato solamente dopo misurazione appropriata. La preoccupazione dell'Agenzia Nazionale Ucraina ricade anche sui soldati russi. Se non si sono disfatti di questi materiali rubati dall'impianto nel giro di due settimane cominceranno a vedere comparire ustioni da radiazioni il primo sintomo della sindrome da radiazioni che porta alla morte. Un pericolo che se ne aggiunge a un altro reso noto nei giorni scorsi dal ministro dell'energia ucraino Germán Gelushenko che aveva dichiarato che sempre i soldati russi che hanno scavato queste trincee vicino alla centrale nucleare di Chernobyl della cosiddetta foresta rossa hanno non più di un anno di vita a causa delle radiazioni a cui sono stati esposti. E Mario Draghi e Luigi Di Maio volano in Algeria per firmare un accordo sul gas e rispondere all'emergenza provocata dalla guerra. Augusto Cantelli Alla caccia del gas per liberarsi dalla dipendenza energetica russa l'Italia allarga l'orizzonte e torna nel Mediterraneo. Nel pomeriggio ad Algeri Draghi sigla un accordo per incrementare di almeno 9 miliardi di metri cubi di gas il flusso dall'Algeria. Con queste nuove scorte il gas adotto Transmed che dalla Tunisia passa attraverso il Mediterraneo e arriva sul territorio nazionale dalle coste di Mazzara del Vallo in Sicilia aumenterà la sua capacità massima dagli attuali 21 ai 30 miliardi di metri cubi. Il patto con l'Algeria è fondamentale non solo per la quantità di gas che comunque rappresenta un terzo di quello che arriva da Mosca ma anche perché sarebbe disponibile già dal prossimo inverno. Ricordiamoci che da quando abbiamo cominciato le sanzioni contro la Russia per la Crimea in realtà l'importazione di gas non solo in Italia ma anche in Europa è aumentata per cui quello dell'affrancamento dall'importazione del gas russo deve essere un'azione convinta concreta, determinata cioè quella di andare a chiedere ai paesi patene di aumentare la possibilità di avere da loro maggior import di gas. Alla Camera intanto approde il decreto energia per la conversione in legge un intervento da 8 miliardi per contenere i costi delle bollette e dei beni energetici. E i rincari si abbattono anche sul pranzo di Pasqua e porteranno le famiglie italiane a spendere oltre 100 milioni di euro in più lo afferma il Kodakons secondo cui la carne d'agnello re delle tavole pasquali costa oggi il 4,9% in più rispetto allo scorso anno le uova invece sono rincarate del 4,5% la farina del 10% lo zucchero del 5,6% ma a registrare il record segnala infine l'associazione dei consumatori e l'olio di semi ha aumentato addirittura del 23,3% rispetto allo scorso anno. Andiamo all'estero andiamo in Francia alle elezioni presidenziali possibile riconferma di Macron che si attesta a tre punti percentuali sopra la rivale Le Pen ma il vero protagonista di questa tornata è stato l'assenzionismo Leonardo Possati L'appuntamento è fra due settimane quando Emmanuel Macron e Marine Le Pen si contenderanno l'Eliseo il primo turno ieri quando i francesi dalla mattina presto si sono recati alle urne ha visto la vittoria del presidente in carica con il 27% delle preferenze mentre la sua diretta rivale era Le Pen si è fermata di poco sopra al 23% dalle urne in un momento in cui la destra è particolarmente forte arriva alla sorpresa del candidato di sinistra Mélenchon che ha mancato di poco il secondo turno raccogliendo a sorpresa quasi il 22% crollano invece gollisti e socialisti mentre l'estrema destra di Rex Zemmour racimola un misero 7% ma è proprio il leader di sinistra l'ago della bilancia in vista del balottaggio Mélenchon non ama Macron ma come ha subito precisato ieri pochi minuti dopo la fine dello spoglio non darà un solo voto alla Le Pen e così il suo 22% potrebbe essere la garanzia per l'attuale presidente di essere rieletto a differenza però di 5 anni fa quando era la novità assoluta in una politica che si percepiva sempre più lontana dalle persone Macron oggi rappresenta il potere mentre la Le Pen sembra incarnare le aspettative della classe media dell'USA dalle politiche degli ultimi anni e desiderosa di rinnovamento e cambiamento Emmanuel Macron arriva in testa del primo turno delle presidenziali francesi e questo è un elemento fondamentale e a un livello molto alto che gli permette di pensare una conquista di un secondo mandato cosa mai vista dal 2000 in poi da quando c'è stata una riforma della funzione di presidente in Francia quindi si tratta di una dinamica che sta nelle sue mani certamente adesso per lui deve riuscire a proporsi come candidato con una visione che rinnova il suo stesso esercizio del potere di fronte a una Marine Le Pen che vuole radunare a sé il consenso anti Macron è una bella sfida il primo turno dà una dinamica forte per il campo di Macron però bisognerà vedere queste due settimane fondamentali che cosa offriranno in termini di dibattito ma anche di proposte capitolo covid la fase acuta della pandemia sembra ormai alle spalle ora però i 15 milioni di italiani che si sono infettati cominciano a fare conti con gli effetti a lungo termine del virus sentiamo Letizia Davoli l'istituto superiore di sanità lo definisce come una condizione caratterizzata da segni e sintomi causati dall'infezione da covid-19 che continuano o si sviluppano dopo quattro settimane da un'infezione acuta è il long covid più conosciuto come quello strascico di malesseri più o meno intensi che si sviluppano nell'organismo una volta guarito dal covid si tratta di una malattia nuova che è comparsa con il covid-19 nel 2020 il long covid può colpire una percentuale variabile ma non piccola di soggetti guariti dalla malattia covid i sintomi e i segni di questa malattia interessano praticamente ogni organo e ogni apparato anche se il sintoma più frequentemente lamentato dai pazienti è la stanchezza la durata dei sintomi è variabile ma alcuni di questi possono durare anche settimane e mesi alla base dell'on covid ci sarebbe un perdurare dell'infiammazione che caratterizza il covid-19 e che spiega la durata nel tempo dei sintomi in Italia sono molti centri che seguono gli effetti a lungo termine del covid e centinaia le ricerche nel mondo da tutti emerso che questa particolare condizione è presente soprattutto ma non solo in chi ha avuto la forma grave della malattia e che nel 47% dei casi si presenta in forma lieve molto grave invece nel 17% dei pazienti la cronaca ci porta nel napoletano un ragazzo di 19 anni è morto un altro è rimasto gravemente ferito a seguito di una rissa degenerata a torre del greco la vittima è stata raggiunta da una coltellata al cuore ed è morta sul colpo l'amico coetaneo invece è ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita le forze dell'ordine hanno arrestato due ragazzi minorenni all'origine della rissa ci sarebbero solo futili motivi la fiera di verona cambiamo argomento la fiera di verona riapre le porte al vinitaly dopo due anni di restrizioni il salone internazionale del vino torna in presenza e lo fa con numeri da capogiro Elena Bresciani Vinitaly di nuovo a Verona Fiere fino a mercoledì 13 aprile alla 54esima edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati partecipano 4400 aziende di 19 nazioni in programma oltre 30 convegni e 76 super degustazioni qui si aggiunge il fuorisalone Vinitaly and the city con eventi spettacoli e degustazioni nel centro storico di Verona 700 i top buyer esteri di vino italiano accreditati da 50 paesi la più grande la più importante l'edizione della ripresa l'edizione che segue a un 2021 incredibile 7 miliardi e 100 di esportazioni l'esport agroalimentare che ha fatto tutti i record una filiera forte una filiera che funziona la grande eccellenza italiana però non diamo per scontato ciò che abbiamo e non diamo per scontato il fatto che dobbiamo continuare a essere secondi in volume e in valore dobbiamo essere i primi dopo due anni di pandemia il vino italiano infatti deve ora fare i conti con gli aumenti dei prezzi che rischiano di impattare per 1,3 miliardi di euro di costi aggiuntivi e di far perdere quote di mercato a favore di paesi meno esposti alla crisi energetica gli artisti ucraini espongono a Roma per dire no alla guerra si tratta di 60 opere provenienti da Kiev per raccogliere risorse da destinare agli aiuti umanitari sentiamo Pierluigi Vito forme e colori che gridano pace da ieri sono esposte a Roma opere d'arte grafica e pittorica giunte dal Modern Art Research Institute dell'Accademia delle Arti di Kiev attraverso uno sforzo del volontariato internazionale italiano non è stato facile portare le opere dei artisti una parte siamo riusciti a portare e qui potete vedere in altra sala c'è le opere di artisti che sono state proprio fatte nell'ultimo mese nel mese di guerra parte delle opere rappresentate qua sono state fatte prima di guerra ma comunque rappresentano il dolore il tema che puoi in certo modo raccontare di sensibilizzare persone verso la situazione l'esposizione si intitola Ukrainian Art Against Violet ed è stata organizzata al Demolab di Via del Portonaccio dall'associazione Vita Ucr con la Fondazione Arte Contemporanea Giorgio Grasso dipinti e tavole in mostra sono in vendita e il ricavato verrà destinato al sostegno degli artisti e l'acquisto dei beni di prima necessità per profughi e rifugiati ma oltre al sostegno materiale la mostra vuole anche offrire uno spazio di solidarietà morale agli artisti ucraini salvaguardare le loro opere d'arte sarà necessario per poter comunque ridare la libertà di espressione di pensiero e di parola agli artisti ma anche al popolo ucraino L'informazione finisce qui torna con tutti gli aggiornamenti alle 14.55 grazie per averci seguito buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti